A pensare i denti che avevo da ragazza, adesso mi avete ridato il sorriso, veramente, posso sorridere di nuovo. Mi sono curata a Milano ma solo delusioni, non mi sono trovata bene, quindi da lì ho cercato un po' su internet, avevo fatto un po' di preventivi in diversi paesi, anche in Sicilia, solo che qui mi ha colpito il dottor Palmas, è stata una cosa che ho detto no, io vado qui, basta, perché ho avuto molte delusioni dei dentisti, ho speso tanti soldi, tanti, tanti veramente, ma non solo io, anche la mia famiglia, mio papà e mia mamma, perché da piccola che mi stavano dietro. Poi con l'ultima gravidanza mi è venuto il diabete e niente, ho rovinato i denti e forse quello era l'unico dentista che avevo trovato bravo, anche le persone che ho visto, ho contattato, mi hanno fatto vedere i lavori, cioè veramente sembravano dei denti naturali proprio, i propri denti, come li sento io adesso, sembrano per i miei denti, sono felicissima, mi hanno ridato il sorriso, lo rifarei altre mille volte, perché non sorridevo più, io non sorridevo più, io mettevo quando parlavo, ridevo, mettevo sempre la mano qui davanti alla bocca, erano rovinati, a pensare i denti che avevo da ragazza, adesso vi avete ridato il sorriso, veramente, posso sorridere di nuovo. Siete affidabili, cioè, questo è che comunque, alla fine non c'è delusione, nel senso, cioè, sono felice di quello che ho adesso, in questo momento, eh sì, lo dire a tutti sinceramente di venire qui, se mi dovrebbero chiedere, ma infatti tante persone mi hanno chiesto, ho anche il contatto, eh, io gliel'ho detto che comunque è una cosa che, cioè, è da fare, qui è da fare, veramente, grazie a voi.